Ciao a tutti amici miei come vedete sto nel mio campo di volo personale preferito oggi per quale motivo mi trovo qui per parlare nuovamente di Betaflight 4.4 e come promesso affronteremo il tuning dell'antigravity che è stato ristrutturato nuovamente con questa ultima versione io sono Davide mi raccomando se non l'avete fatto iscrivetevi al canale qui in basso ormai lo sapete attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei nuovi contenuti il pollicione si tira sempre su se volete supportarmi c'è sempre Patreon ma adesso fiondiamoci dentro questo nuovo firmware e andiamo a parlare di antigravity innanzitutto che cos'è l'antigravity l'antigravity è una componente che è stata aggiunta nelle vecchie versioni di Betaflight per cercare di correggere eventuali difetti di movimento del quad in particolare sul naso quindi questo sopra sotto che vedete quando vado a dare gas velocemente quindi quando vado ad effettuare delle forti escursioni con lo stick del throttle in passato nelle vecchie versioni di Betaflight era una feature che andava a gonfiare a pompare momentaneamente soprattutto la nostra componente di integrale quindi la nostra I però si è visto con il passare del tempo che effettivamente la I è una componente che ci mette tempo a dare del suo e quindi era praticamente inutile bisognava pomparlo tanto questo antigravity per avere degli effetti ma andando a pomparlo tanto si incorreva nei classici difetti di I alta il drone poteva avere delle oscillazioni lenti e soprattutto dei difetti sull'asse dello Yaw quello poi che si chiama i-term wind up ma insomma adesso non voglio entrare troppo nel tecnico di questi fenomeni qua e quindi che cosa è successo? che con l'avvento di Betaflight 4.3 quindi la versione precedente i nostri amati sviluppatori hanno capito che dovevano intervenire più sulla P in realtà piuttosto che sulla I e quindi l'hanno rimodificato sicuramente è stato un miglioramento ma che succedeva? che quando si andava a cercare la perfezione quindi si andava ad aumentare questo antigravity cercando di avere proprio il numero il valore perfetto purtroppo non si riusciva perché uscivano di nuovo vistosi difetti sull'asse dello Yaw perché la componente P era distribuita su tutti e tre gli assi e si è visto che andandola a pompare vistosamente e momentaneamente sull'asse dello Yaw andava ad introdurre nuovamente delle brutte veloci oscillazioni derivanti da P alta perché effettivamente andava a bustare con la 4.4 quindi andiamo a migliorare nuovamente tutti questi difetti che si sono rilevati nel corso del tempo e nel corso delle varie modifiche e finalmente ragazzi hanno raggiunto veramente una feature molto molto interessante perché è stata completamente disattivata ridotta il boost della P sull'asse dello Yaw quindi adesso andiamo a lavorare solamente sul pitch e sul roll quindi vado completamente a disattivare a eliminare quei difetti brutti che avevo sull'asse dello Yaw quando andavo a pompare tanto questo antigravity per cercare di arrivare alla perfezione da quello che ho visto comunque bisogna sempre stare molto attenti perché siccome sto bustando la P ma stavolta anche la I perché l'hanno messe completamente in relazione queste due componenti hanno fatto bene ma bisogna stare attenti perché se vado ad esagerare eccolo lì che ritorno nuovamente in quelle micro oscillazioni che poi sono brutte da vedere sono andati poi a lavorare anche sui difetti che la I alta può portare tutto questo insieme di cose devo dire che ha portato un miglioramento però adesso voglio entrare un po' nel dettaglio del tuning di questa componente qui parlando un po' del processo di tuning l'antigravity è un qualcosa che si deve tenere alla fine non si deve fare all'inizio perché se no si si abusa di questo antigravity per correggere dei difetti che invece possono essere tranquillamente risolti con un buon tuning quindi io prima devo fare un tuning devo far volare bene il mio quad con i movimenti classici che si fanno durante le sessioni di PID tuning dopodiché quando sono soddisfatto mi concentro sull'andare a testare in modo specifico l'antigravity come si fa bene o male si va a scorrere davanti con una certa andatura il nostro quad e si va a dare dei colpetti di gas ok metto il levo metto il levo metto il levo cercando di tenere sempre l'andatura quindi il drone tende ad andare sopra sotto sopra sotto e vedrete che quando non c'è l'antigravity o quando l'antigravity non è tunato regolato a dovere il naso fa questi movimenti sopra sotto che sono un po' bruttini ok il nostro obiettivo è quello di ridurre al minimo questi movimenti però dobbiamo anche ricordarci ragazzi che questa è la cosa importante che io quando volo non è che mi metto a scecherare come un pazzo metto e tolgo il gas perché sarei uno psicopatico va bene per vedere come sta lavorando l'antigravity ma poi per verificare bene se il tuning del mio antigravity è corretto devo andare ad applicarlo nel volo quindi dove lo applico lo applico magari in cambi di direzione repentini e veloci ok lì dove io magari sono costretto a togliere e rimettere il gas velocemente cambio direzione e io in quel momento lì non devo avere difetti questo sarà l'obiettivo del nostro tuning adesso fiondiamoci sugli esempi li commentiamo insieme e vi faccio vedere come siamo arrivati ad un risultato che è più che ottimale che mi piace parecchio indossiamo gli occhiali e sul campo a commentare via qui vediamo i movimenti che dobbiamo fare per effettuare il tuning dell'antigravity quindi abbiamo due movimenti il movimento 1 sono i cambiamenti repentini di direzione con il movimento 2 dei rapidi push up con il gas qui vediamo l'amo viola vedete qui l'antigravity è assente infatti si vede che in questi cambi di direzione l'orizzonte fluttua e qui c'è il movimento 2 con i push up e vedete che il naso fa sopra e sotto andando con il gas iniziamo con il tuning questo è un esempio di Betaflight 4.4 default tuning senza l'antigravity e vedete che infatti l'orizzonte proprio fa sopra e sotto sia nei movimenti di push up con il gas vedete quanto si muove sia con i cambiamenti di direzione guardate come si muove sopra e sotto l'orizzonte quindi qui ovviamente dobbiamo andare a sistemare queste problematiche che state vedendo qui tuning di default Betaflight 4.4 con l'antigravity attivo valore di default è 8 vedete che la situazione è migliorata drasticamente ma comunque il tuning dell'antigravity non è ancora perfetto infatti l'orizzonte si muove parecchio sopra e sotto soprattutto nei cambi di direzione ed è lì dove vogliamo correggere questo fenomeno iniziamo con il tuning questo è il quad tunato abbastanza bene lasciando l'antigravity a 8 vedete che effettivamente adesso è molto migliorata la situazione però se ci fate caso nei cambiamenti di direzione rapidi comunque questo orizzonte tende a muoversi e qui vedete come è migliorata tantissimo la situazione con i push up ma comunque possiamo andare a correggerlo quindi iniziamo con il tuning aumentiamo l'antigravity qui vi faccio vedere già la situazione diciamo massima che ho raggiunto qui l'antigravity è a 13 ed è esagerato sembra così visivamente che la situazione va bene ma se sentite il suono potete tranquillamente ascoltare che ci sono delle micro oscillazioni il rumore è un po' bruttino quindi con il valore di 13 ho raggiunto il massimo anzi ho anche un po' effettuato un overtuning complessivo dell'antigravity quindi devo comunque scendere ovviamente ci sono arrivato per gradi ma vi porto già gli esempi limite quindi il 13 non va bene e questo è il valore di 11 che è quello che ho trovato essere giusto compromesso per il mio antigravity vedete che stavolta l'orizzonte tiene perfettamente quindi questo antigravity va bene e poi alla fine insomma quando avete raggiunto il vostro valore che considerate essere giusto ovviamente fate freestyle e testatelo bene vedete che nei movimenti classici di freestyle comunque il drone quando vado a dare gas e cambio direzione mi sta bello che inchiodato quindi valore perfetto eccoci di nuovo qui ragazzi vi ho detto un po' i segreti del tuning dell'antigravity quindi utilizzatelo sempre con una certa moderazione quando iniziate a sentire ad orecchio rumori che non vi piacciono sui movimenti veloci e repentini che sono quelli poi che si fanno nel racing in un freestyle un po' più aggressivo e via discorrendo allora è lì che capite che avete raggiunto il limite non tanto in quel movimento sopra e sotto che si fa sì è indicativo per vedere come sta lavorando l'antigravity ma ripeto non sono movimenti che poi andate a fare durante il volo spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi come al solito un bel pollicione in su e noi ci vediamo al prossimo video tutti quanti a divertirsi DAIE! 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 Grazie.